Voglio trasmettere un messaggio con questa canzone Tipo far risvegliare i popoli o qualcosa del genere E che mi sembra ancora troppo superficiale Parlo di cose semplici Come Whitman Che c'entra Whitman? Quale detto che era il tuo obiettivo? Cambiare il mondo, no? E allora, secondo me, devi aggiungere qualcosa di più concreto Di che cosa state parlando la mia serata? Devi sapere che la signorina qui si è data parecchio da fare per procurarti una serata E vederti cantare le tue canzoni davanti a un pubblico Stai tranquillo e non darmi le tue scuse Non è che viene davvero a cantare Bomb Dylan, idiota? Che cosa c'è di più concreto della morte? È il mio amico, ci tengo troppo Lo devi far capire alle persone che la società non va Realizzare le tue canzoni davanti a un pubblico Luzie a tutti Grazie a tutti